buongiorno e bentornati o benvenuti sul mio canale il filo della principiante io sono simona e sono qui a raccontarvi i miei lavori a maglia, i miei uncinetto e le mie riflessioni aiutata da alcuni libri. Allora è un po' che manco e questo video sarà anche molto breve perché il tempo che ho avuto è stato veramente molto poco e tra l'altro sono stata anche male quindi tra impegni lavorativi e cose da salute che non mi ha aiutato granché e sono rimasta un po' indietro anche con i miei lavori come vedete ho finito la maglia romeo quella che stavo facendo di cui mi mancava solo un pezzetto della manica che però avevo bisogno di riordinare il filo quindi questo qui almeno è un progetto finito e a breve credo che finirò anche la parte sotto quella con viola con il collo alto e comunque è molto carino questo progetto della fata tra l'altro appunto si può utilizzare sia inabbinato con Giulietta che semplicemente con un'altra maglia sotto. Poi tra le novità ho finito il test del gatto con l'orecchino di perla che però vi faccio vedere dopo perché ho lasciato di là. invece ho iniziato un altro un altro test e è il test di Marilena è un maglione a collo tondo quindi a collo rotondo e che io sto lavorando con questo filato quindi verrà in giallo questa è un'alpaca cashmere merino l'avevo presa ad una fiera e il colore mi piace molto e facendo il campione del dello schema il il punto viene quindi sto lavorando con questo e credo che nel prossimo nel prossimo video vi farò vedere il risultato il risultato finito lo schema di Marilena poi vi lascio sotto le indicazioni per per trovare per trovarla il suo contatto su instagram è molto molto bello originale nella nella costruzione è molto ben scritto quindi si segue anche molto facilmente anche se il risultato appunto è molto molto particolare originale rieccomi e eccomi con la gattina con l'orecchino di perla il lo schema che stavo testando per fluts and things che anche questo è uno schema veramente molto bello non so se riuscite a vedere anche l'alternanza di punti per fare sia il turbante che la giacchina mi sono divertita veramente molto a realizzarlo e devo dire che sono anche molto soddisfatta del risultato del risultato finito e questo quindi è un altro dei progetti conclusi e anche di questo vi lascio poi sotto nella box informazioni tutte le indicazioni per raggiungere la designer anche se questo anche questo schema essendo un test ancora non è disponibile per per l'acquisto e a proposito di acquisti ho acquistato due filati rowan ora sapete che a me i filati rowan piacciono tantissimo e questo è uno sfumato un sock quindi molto sottile sfumato sui toni di blu e questo invece è uno sfumato sui toni di di grigio e credo che ci realizzerò un maglione e pensavo anche di inserirci il kill the sick quindi questo filato un po pelusetto nella lavorazione per omogeneizzare i due i due colori quindi verrebbe così e questo è un progetto che ho per ora solo solo in mente ma credo che a breve vedrete qualcosa e a proposito sempre di acquisti una cosa scema che però mi piace da morire è una medaglietta con il libro di it di steven king e la frase stanno stretti sotto i letti sette spettri a denti stretti e questo sono le cose libresche che a me fanno impazzire e che ogni tanto appunto acquisto e mentre invece a proposito di di progetti questo è uno del degli argomenti che volevo affrontare con con voi oggi e cioè una nuova tendenza diciamo della della moda che diciamo riprende gli elementi del diciamo della cultura popolare ma soprattutto della cultura dell'infanzia si ha richiamato la mia attenzione il la sfilata di gucci in cui ha fatto sfilare delle borze a tema gremlins che adesso vi faccio vedere ecco qui questa qui appunto è jimso con una sorta di tasca esterna alla borsa una borsa pelosa e in cui esce il il peluche e ne ha fatta anche un'altra della stessa serie sempre con jimso e come vedete qui è una borsa diciamo una shopper con jimso che esce dal 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 taschino e niente questa questa idea mi è piaciuta molto e e quindi ho pensato di realizzarla un po modo mio e stavo pensando quindi come farla ovviamente jimso lo farei ad amigurumi e ho già pensato di realizzarlo con il vellutino perché viene più pelucioso più carino mentre invece per la borsa ho pensato di usare il filato minard tortora e oro non so se si riesce a vedere che appunto richiama un po uno stile elegante quindi anche questo contrasto tra l'elemento elegante e l'elemento invece giocoso del dello stile dello stile del del peluche mi piaceva come come abbinamento quindi credo che a breve inizierò questo progetto che ho quasi totalmente pensato ma va tutto realizzato e quindi dicevo questa nuova tendenza la tendenza del game core è appunto una tendenza che sta riprendendo stanno riprendendo molti stilisti quindi mettendo ciambelle quelle da mare non so se ve le ricordate quelle anni 80 con magari il dinosauro davanti o con o con l'unicorno oppure nelle ultime sfilate una maglia stile granny a uncinetto con diciamo a coprire le parti del del seno spongibop o cose di questo di questo tipo e il ritorno appunto a questa dimensione giocosa dell'abbigliamento mi piace molto mi diverte e quindi volevo provare a giocarci anch'io di cos'altro vi volevo parlare vi volevo parlare del di un libro ho detto questo video sarà particolarmente breve perché è uscito il secondo volume di appunto crochet iconic woman questo è di amorfu Carla Mitrani in cui lei ha realizzato una serie di donne di personaggi di icone femminili tutte ad amigurumi la cosa interessante di questo di questo libro è che è poi possibile utilizzare magari parti di di uno schema di una di un personaggio e parti di un altro schema per poi dar vita al personaggio anche che che qui non è presente ma che ci potrebbe andare di di realizzare e io prendendo spunto appunto da due schemi di questo di questo volume avevo realizzato qualche tempo fa rosy de riverette vi ricordate l'icona degli anni 50 quella che con il motto adesso ve la faccio vedere probabilmente vedendola we can do it e quindi avevo realizzato lei prendendo appunto spunto da due dei degli schemi presenti all'interno di questo di questo libro e gli schemi di amorfu sono a me piacciono veramente molto sono semplici nella nella realizzazione ma molto in qualche modo hanno una dimensione che fa riconoscere il personaggio e e appunto mi piacciono molto in generale i suoi schemi aveva fatto anche tutta una serie dedicata alle alla letteratura quindi c'è anche la serie di piccole donne c'è gli schemi di romeo e giulietta e diciamo è una delle designer che io apprezzo molto e che seguo e niente quindi mi andava di condividere con voi appunto questo questo progetto anche perché appunto ci si avvicina all'otto marzo e quindi è importante ricordare anche le figure femminili che ci hanno permesso oggi di essere quello che noi siamo e quello che possiamo fare e appunto i diritti vanno sempre tutelati e bisogna sempre tenere l'attenzione l'attenzione accesa su certe su certe dinamiche e niente con questo credo di avervi detto più o meno tutto spero che la prossima volta riuscirò ad avere uno più progetti finiti due e un po più di rilassatezza per parlarvi di anche di un testo magari un po più impegnativo vi auguro come sempre una buona una buona settimana e delle buone giornate e grazie per per chi mi segue per grazie a tutti coloro che commentano grazie a chi mette like e niente alla prossima